Il Veneto, in tempo di vendemmia, scommette sulle qualità delle uve. Purtroppo la vendemmia 2019 sul territorio è in calo, ma acquista valore la qualità del prodotto. Il dato rimane invariato in quasi tutta Italia. Numeri peggiori arrivano da Francia e Germania. Ad aprire la vendemmia 2019, Pinot e lo Chardonnay, mentre proprio in questi giorni è iniziata la raccolta delle uve di pinot grigio per base spumante.